Eccoci qua nuovamente, mi sono arrivati i chinkhali, anzi sono andato a prendermeli. Sono come i chinkhali che si vedono in Georgia o molto simili anche i manta che si vedono in Uzbekistan. Adesso vabbè non li provo immediatamente perché si vede subito che sono incandescenti e ci sentiamo alla prossima.